Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, location insolita, perché sono a Andalo. Siamo arrivati oggi e domani sarà la prima giornata dei ride, non so cosa farò per la precisione. Adesso vi lascio alla sigla e poi ci si vede per il primo giorno. Andiamo! Ho visto qualcosa ieri sera di questa pista qui. Era bella o era brutta? Bella. Se si fa saltare ti diverti come un matto. Io non so farlo. Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua. Volevo andare al lago oggi, però purtroppo è tutto nuvoloso così, ho detto vabbè, facciamo i trail del park e quelli un po' più naturali e poi vediamo domani di andare al lago. Grazie. Insomma, mi hanno detto che si trova un bel panorama oggi. Eh? E' un po' meglio. Eh sì, domani non so com'è, ha detto lui anche domani. Eh? 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 Beh? Eh? Allora, that's it. 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 Allora. Allora, that's it. Allora. Allora, that's it. 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 Allora. 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 ecco qua l'esposizione sulla destra e non ci occhio perché è esposto bravo non 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 Grazie a tutti. Ora se si entra il tecnico abbassa un attimo la marcia, sennò un bisalgo più. Questa è meglio sta'alti. Alto? Forse appena posso sarà bene, cambiamo un attimo la marcia. Questa è la marcia. Questa è la marcia. un attimo sennò il problema sono le mani che anche lui non mi sta più sentendo anche lui ha detto che tranquillo salta salta al sasso aspetta che mi si è rallentato tutto oh con calma era quello che ha fatto lui c'è più che altro se riusciva a chiudere la sopra destra sinistra dritto ma erano due diverse ma si ricollegano e qui è tutta giamentata adesso posso fare una cosa allora un video con 360 il bastone per il 360 via se una figata assurda e 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